Oggi è venerdì, ultimo giorno della settimana, ci troviamo dentro la struttura, all'interno della struttura polivalente al coperto dell'impianto sportivo nuovo di Cassè Frentano. Si stanno allenando una partitella in famiglia i nostri allievi di mister Gabriele Di Felice, che è anche coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile. I ragazzi sono tutti euforici perché fra poco comincia il campionato, giovedì comincia il campionato, si doveva giocare domani, ma è stato posticipato su richiesta della squadra locale l'Ortona Calcio. La gara sarà discutata giovedì, prima gara a Ortona in trasferta con l'Ortona Calcio alle ore 16.30 al comunale di Ortona. Lunedì invece ci sarà l'esordio di campionato, prima giornata dei giovanissimi di mister Giovanni Di Giulio in casa, la prima gara in casa contro il miglianico calcio. C'è stato solo un posticipo di orario, non più le 15.30 ma le ore 16.00. Qua i ragazzi sono tutti carichi, stasera c'è una cena quotidiale dei ragazzi allievi qui presenti e i giovanissimi. Andiamo tutti al ristorante, una bella manciata giusto per darti gli auguri di questo inizio di campionato. Adesso parola una piccola ripresa così. Passo con i nominativi, Cocco in porta. Con la maglia gialla là in fondo, Keidi Mata. Qua a centro con la casacca bianca, Gabriele Donofio. Qua Leni Giallonardo. Emanuele Giallonardo. Pink Karan, Michele Daniello, Nicola Perrucci, la in fondo con Stantino Antonio, del bello Riccardo la in fondo, Guido con la Izzi. Qua abbiamo Ceroli, Alessio. In porta c'è Gianni Perrucci, l'americano. Cristian con la casacca bianca. Qua c'è... Max. Abbiamo anche Rencetto, Renzo Campitelli. Adesso ha preso... C'è Lorenzo Puniberti detto Pitbull. C'è anche Bartolo là in fondo. E per finire... C'è... C'è Polanero, Amedeo, Nicola che... Pochi secondi fa ha respinto la palla. Ecco Nicola, Nicola, Nicola. C'è Pitbull, Pitbull. Interviene Rencetto, Guido, Guido. Niente, rimette la coda. Intervengono c'è Dondino, Andrea. I nostri ragazzi tutti carichi. Cristian, Amedeo, Nicola, Carane di testa respince. Entra... Alessio, Michele, Michele, Michele con Antonio. Tutti carichi... Ecco... Qua c'è il mister Gabriele che osserva i suoi ragazzi. Stavolta la forma fisica dei ragazzi. La loro preparazione. Siamo proprio... Siamo proprio sulla linea di partenza di questo campionato. Poveroso. Adesso lascio tutto. Dopo l'allenamento i ragazzi. Andiamo tutti a cena. Una cena conviviale organizzata dalla società. Sia per gli allievi, sia per i giovanissimi. Come auspicio per l'inizio del campionato previsto lunedì per i giovanissimi e giovedì per noi. Signore e signori, alla prossima ripresa.